ben trovati ad un nuovo episodio di gong il podcast di round two che torna dopo qualche giorno di pausa con un paio di notizie puntata registrata in single player perché fra era impegnato con la prova di un gioco anche molto succoso di cui però vi potremo parlare solo tra un pochino di tempo andiamo direi direttamente a parlare di una delle news che ho selezionato per questa puntata allora qui sappiate che in realtà c'è poco da dire ma anche molto da dire nel senso che la notizia in sé fa quasi sorridere ovvero c'è stato l'annuncio di una partnership che si interrompe tra read pop che i più attenti di voi si ricorderanno essere un ente che organizza eventi americani noto per la star wars celebration il comicon eccetera eccetera e l'esa ovvero l'entertainment l'entertainment scusate software association americana l'ente di categoria che ha sempre organizzato le tre sappiamo che un anno fa avevamo accolto con grande gioia la notizia del fatto che read pop arrivasse sostanzialmente a salvare le tre per dargli una nuova struttura per finalmente trovargli la collocazione giusta e il format adeguato per rilanciarlo diciamo in una versione 2.0 vi ricorderete che tutto si è risolto in un nulla anzi in realtà anche un po' in un bagno di sangue contando che poi il presidente di read pop è saltato e che ovviamente la figura fatta da laser è stata pessima ebbene quando si pensava che tutto oramai fosse sostanzialmente destinato a finire anche se loro ufficialmente avevano detto ne riparleremo vedremo così in un giorno a caso di settembre c'è stato l'annuncio del fatto che read pop non organizzerà più ufficialmente le tre si sono proprio divisi con l'esa e quindi hanno fatto diciamo gli auguri all'ex partner mi hanno detto che loro non avranno più niente a che fare con questa manifestazione e nel frattempo che è successo che l'esa ha detto dal canto suo che questa credo sia la quinta volta che lo dicono stanno pensando a una reinvenzione totale della formula ma attenzione non per l'estate 2024 ma addirittura per l'edizione potenziale del 2025 ovviamente tra l'altro che non si farebbe a los angeles a quanto pare ovviamente prendete tutta questa cosa come una chiacchiera nel senso che per quanto siano dichiarazioni ufficiali e per quanto appunto le due società si siano separate nell'organizzazione della cosa è altrettanto palese che sostanzialmente si stia davvero andando oramai più che a infierire su un cadavere che è già morto seppellito disotterrato e sfregiato a più riprese forse è chiaro che non ci sia spazio più per qualcosa del genere ma fa abbastanza sorridere ma una punta di tristezza impossibile da scelare l'atteggiamento stesso di quest'ente che da un lato sembra essere aggrappato con le unghie e con i denti ad un presente che in realtà anno dopo anno è sempre più passato perché la verità è che dal 2019 che non si organizza più le tre quindi si entrerebbe formalmente nel quarto anno figuratevi di assenza e quindi oramai stiamo parlando di qualcosa che già aveva perso senso figuriamoci oggi diventa ancora più insostenibile pensare ad un futuro senza nemmeno la visione di ridpop che sicuramente con gli eventi diciamo ci sa fare e che è stata forse la più grande vittima di questo pasticcio al di là dell'evento in sé un po di questo natale dei videogiocatori che tutti amavamo ma che a quanto pare è assolutamente destinato a non tornare più nel caso vi daremo aggiornamenti futuri sulla base delle farneticazioni dell'esa di quello che decideranno un po di inventarsi e di comunicare ma al di là di tutto ripeto è chiaro che le tre sia ormai un retaggio del passato e anzi mi ha fatto specie sapere che talmente è una cosa che ha fatto dei danni che addirittura hit pop se ne è voluta distanziare ufficialmente ecco passano da di fatto i salvatori della patria ai primi che secondo me legittimamente abbandonano la nave e segnano ancora una volta diciamo questo requiem che è destinato ad orare nella seconda parte dell'episodio vi voglio invece raccontare un pochino di questioni riguardanti starfield sappiamo che il titolo è stato ufficialmente pubblicato lo scorso 6 di settembre dopo una fase in accesso anticipato che appunto è stata iniziata il giorno 1 di settembre abbiamo anche fatto avere le nostre impressioni preliminari sul gioco ma non volevo tanto soffermarmi su questioni legate al videogame in sé quanto piuttosto a tutta una serie di notizie parallele che il titolo evento di microsoft diciamo è riuscito a scatenare partirei da per esempio l'idea c'è una dichiarazione di todd howard che è stata fatta a alla bbc in cui todd howard appunto a di bethesda ha spiegato che secondo lui starfield è un prodotto migliore per il fatto di essere rimasto un'esclusiva xbox sappiamo ovviamente che il titolo è stato pubblicato su serie s su serie x e chiaramente su pc ma il fatto di aver tolto dall'equazione le piattaforme playstation ha consentito secondo lui agli sviluppatori di concentrarsi meglio sulle macchine sostanzialmente che invece dovevano far girare il gioco al lancio e quindi di riuscire ad arrivare con una versione meglio ottimizzata ci starebbe un po un asterisco perché diciamo che non mi sembra proprio il campione di ottimizzazione né su console né su pc figuratevi cosa sarebbe stato se ne avessero avute da gestire almeno una in più però loro dicono che questa è l'idea e che in generale da un lato c'è la naturale tendenza a voler parlare ad un pubblico più ampio possibile per chiaramente rivolgersi a un target idealmente sconfinato quindi lasciar fuori una parte di utenza chiaramente comporta dei sacrifici però dicono che dal punto di vista dello sviluppo dall'altro lato della barricata non volendo guardare solo e soltanto diciamo ai soldi è sicuramente stata una scelta proficua per gli sviluppatori e piace anche ad Howard l'idea che certi franchise si associano in maniera molto molto spontanea e molto naturale ad alcune piattaforme lui fa un esempio proprio specifico dice per esempio quando pensate a Zelda pensate alle piattaforme Nintendo in particolare l'ultimo ovviamente è legatissimo a Nintendo Switch e dice questo alle volte anche a livello di percezione di comunicazione di prodotto diciamo a 360 gradi può essere una scelta adeguata le dichiarazioni di Todd Howard fanno tra l'altro come dire si seguono con quelle di Pete Hines sempre di Bethesda il capo del publishing che aveva dichiarato che tra l'altro il fatto di dover uscire su meno piattaforme quindi avendo tagliato fuori l'ecosistema Sony avesse garantito a Starfield la possibilità di arrivare entro la fine dell'anno i lavori sarebbero stati certamente più lunghi e più problematici dice se avessimo dovuto pubblicare il gioco anche altrove difficilmente saremmo riusciti a stare nei tempi il che fa piuttosto sorridere considerando che la data di pubblicazione originale del gioco era l'11 novembre di un anno fa ma vabbè tant'è quindi sono contenti di essersi diciamo rivolti ad un unico hardware e tra l'altro devo dire che si sono mossi in maniera molto virtuosa secondo me a livello di comunicazione avevamo apprezzato lo Starfield Direct che in 40 minuti ci aveva raccontato tanto del prodotto c'è una curiosità si sono per esempio per il lancio hanno fatto iniziative pubblicitarie e promozionali di vario tipo ce n'è una che mi piace citare si sono hanno sostanzialmente rivestito con i colori con quel quartetto di colori quella specie di arcobaleno particolare blu giallo arancione e rosso che si sono inventati come proprio tema diciamo grafico di Starfield hanno rivestito l'area del palazzetto del team della WNBA quindi l'NBA dedicata alle donne dei New York Liberty e quindi loro questa squadra ha avuto il campo sostanzialmente schinnato da Starfield era un'iniziativa che avevano già utilizzato in passato quelli di Xbox quindi il Barclay Center di New York si è colorato in questa maniera per mandare comunque un messaggio forte e un messaggio che ha avuto una ricezione direi potente anche dal punto di vista del pubblico nel frattempo infatti il gioco lo abbiamo detto è stato pubblicato ormai da qualche giorno e al di là della fase di accesso anticipato sta facendo decisamente molto molto bene pensate che il giorno di lancio sono arrivati ad avere oltre un milione di utenti contemporanei tra Xbox e PC questi sono dati che sono stati forniti da Microsoft a testimonianza dell'accoglienza calorosissima che il pubblico ha voluto riservare diciamo a questa nuova IP targata Bethesda è importante anche sottolineare come si sia parlato di oltre 300 mila utenti dato che è arrivato proprio in queste ore contemporanei su Steam che non sono mai le cifre diciamo stratosferiche che sono state raggiunte per esempio da Hogwarts Legacy o più recentemente anche da Baldur's Gate ma sono dei dati veramente molto 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 importanti tra l'altro ricordiamo che durante i giorni diciamo del preaccesso quelli del primo di settembre erano arrivati a 230 mila utenti in contemporanea sono tanti sono dei numeri importanti tra l'altro si è parlato anche di 6 milioni di persone che hanno effettivamente provato il gioco complice anche il fatto che ricordiamolo il titolo è disponibile all'interno del catalogo di Xbox Game Pass dal giorno 1 ma a fare un po' da contraltare a questa notizia legata al fatto di avere così tanti utenti ci sono poi delle percentuali un po' particolari da studiare che derivano dal fatto di sapere sostanzialmente grazie agli obiettivi poi quante persone hanno completato un certo tipo di task di missioni e pensate che per esempio di questi cioè dei 6 milioni totali di persone che hanno giocato Starfield almeno su Xbox non sono tutti i 6 milioni lì chiaramente però il 45 per cento dei giocatori non ha ancora completato la prima missione che è quella quest che si completa sostanzialmente quando si va in orbita e si prende l'astronave bene quindi tantissimi di fatto il gioco l'hanno scaricato ma la metà oltre quasi la metà delle persone non ha nemmeno poi giocato una ventina di minuti una cosa del genere questo comunque testimonianza del fatto che chiaramente i numeri sono importanti e che le cose possono essere raccontate in tante maniere diverse ma poi i dati bisogna anche un pochino saperli guardare ed analizzare tra l'altro il gioco continua a far parlare molto di sé è un titolo che sta piacendo moltissimo da alcuni ha deluso un pochino d'altri su metacritic comunque ricordiamo che la media è se non ricordo male dell'86 87 è una cosa del genere quindi sicuramente un punteggio assolutamente molto più che lusinghiero e tra l'altro in chiusura voglio aggiungere il fatto che sappiamo quanto i titoli betesda possano godere di una seconda terza quarta forse anche quinta vita grazie al supporto degli utenti stessi che per anni e anni continuano poi a creare contenuti per gli stessi ebbene lo stesso Todd Howard ha dichiarato che nel 2024 arriverà a Famizu lo ha detto il supporto ufficiale alle mod esattamente come era successo in passato per Dead Scrolls 5 e Fallout 4 dice daremo la possibilità di fare praticamente di tutto come è successo in passato e faremo le cose veramente veramente in grande da capire che cosa intenderà in questo senso nel frattempo in realtà delle mod non ufficiali sono già state ufficialmente rilasciate dalla community ma non diciamo con il benestare di betesda capiremo poi quanto effettivamente il gioco verrà stravolto direttamente dagli utenti andando magari al di là di alcuni dei limiti ai quali il cioè nei quali il team diciamo di fatto è incappato per oggi direi che questa puntata di gong addirittura sotto il quarto d'ora quindi secondo me proprio ci siamo può può finire qui ci rivediamo anzi ci risentiamo prestissimo vi ricordo una cosa importante perché fa davvero la differenza per noi di round 2 verrà pubblicato giovedì 14 un documentario che abbiamo realizzato mesi fa insieme ai ragazzi di CD Projekt per raccontare la parabola un po di cyberpunk dal fallimento del gioco originale il disastro comunicativo a questo tentativo di redenzione con phantom liberty che è l'espansione che arriverà a breve siamo stati in polonia abbiamo girato una cosa con dei valori produttivi veramente veramente fuori scala per l'italia e mi permetto di dire anche non solo trovate già un trailer di questo documentario che durerà una quarantina di minuti sul nostro canale youtube quindi potete un minutino di trailer ma da giovedì troverete il prodotto finito ed è una cosa che diciamo caldamente vi vogliamo consigliare di guardare perché ci abbiamo messo tantissimo cuore sudore fatica e tutto quanto aggiungo che nei prossimi giorni arriveranno anche delle puntate di gong con degli approfondimenti su titoli davvero molto succosi quindi non mancheranno gli episodi grazie però per averci seguito oggi e vi auguro una buona giornata